Ciao, sono Davide, benvenuti in Spazio Lenovo. Oggi volevo parlarvi della nuova famiglia Creators di Lenovo. I prodotti della famiglia Creators sono stati costruiti e concepiti per andare incontro alle esigenze dei Content Creators, i creatori di contenuti multimediali ad alta risoluzione. I PC della famiglia Creators hanno una linea comune, oltre ad essere tutti della colorazione Dark Moss, che è l'ultima colorazione alla moda, hanno un display molto molto importante, infatti è calibrato e risponde alle caratteristiche di delta e inferiore di 2. Detto così magari non può sembrare una cosa molto importante, ma questa caratteristica mi garantisce che il colore che vedo all'interno del mio display è realmente il colore che avrò nella realtà. Quindi per un fotografo che gestisce foto ad alta risoluzione è importantissimo avere la certezza che il rosso che vede all'interno del display sarà poi il rosso che magari andrà a stampare su un cartellone 10 metri per 10 in centro a Milano. I PC della famiglia Creators racchiudono in loro stessi le ultime tecnologie in fatto di potenza di calcolo e scheda video, ma soprattutto sono stati studiati con un design all'avanguardia, in grado di garantire una continuità di servizio per ore. Hanno un sistema termico studiato per garantire la continuità di utilizzo nel tempo anche a carichi molto elevati del processore della scheda video senza sorriscaldarsi. La famiglia Creator si sposa anche con le altre famiglie importanti di Lenovo, quindi avremo Legion Creator, Yoga Creator e IdeaPad Creator. Io oggi ho tra le mani il Legion Creator, quindi ha la potenza di calcolo più alta che possiamo avere in questa famiglia di prodotto, però ha tutte le caratteristiche che abbiamo elencato sinora, quindi colorazione Dark Moss che si distingue all'occhio immediatamente della famiglia Creator e soprattutto lo schermo calibrato RGB e con delta E inferiori di 2. Yoga Creator invece sarà il prodotto più alla moda, più prestigioso, sempre mantenendo la famiglia Creator e infine IdeaPad Creator è il prodotto con un ottimo rapporto qualità prezzo, quindi contiene tutte le tecnologie dell'ultimo momento tipiche della famiglia IdeaPad e lo schermo calibrato tipico della famiglia Creators. Vi invito a venirci a trovare in Spazio Lenovo a Milano per toccare con mano i prodotti. Grazie del vostro tempo!